Musica Ben ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Volevo fare un attimo un chiarimento sulla sponsorizzazione di 2000 iscritti perchè molti di voi mi hanno inviato video che hanno già pubblicato nel loro canale Ragazzi molto semplice Non voglio un video già fatto ma voglio un video che dovete fare Ovviamente voglio un video nuovo che non avete mai pubblicato nel vostro canale E questo video ovviamente dovete caricarlo nel vostro canale in non elencato Cioè che non potete vedere nessuno tranne quelle persone a cui inviate il link Quindi ragazzi vi chiederò di fare un video per il mio canale Può essere un gameplay, può essere una qualsiasi cosa, un'analisi, un commento su un gioco Quello che volete e mettermela in non elencato per poi mandarmi il link su facebook O magari su youtube tramite messaggio privato in modo che così io possa vederlo Ragazzi non voglio un video che avete già fatto, che avete già fatto vedere i vostri iscritti Ma voglio un video totalmente nuovo che deve essere pubblicato esclusivamente nel mio canale Quindi da Cura93 è tutto, spero di aver chiarito questa storia del video Per la sponsorizzazione Inoltre ragazzi volevo dirvi che da venerdì Sì da venerdì farò anche nuovamente il gameplay O comunque sia un paio di sclerate o su Titanfall o su Call of Duty Vediamo un attimo O se volete anche piante contro zombie ditemi voi E noi ci vediamo al prossimo quindi Bella raga Ciao